Siete anche voi stanchi del classico lieto fine al cinema? Eccovi tre film in cui il protagonista perde malamente. No spoiler, solo trama. I soliti sospetti. Classicone. Un detective deve scoprire tra un piccolo numero di sospettati il colpevole di una sparatoria. Non posso andare avanti con la trama, ma vi basti sapere che questo film ha iniziato la moda dei finali a sorpresa. Closer. Jude Law è il protagonista di un quadrato amoroso con Natalie Portman, Julia Roberts e Clive Owen. Colonne sonore struggenti per un finale a dir poco amaro. Gone Girl. Il buon Ben Affleck è indagato per l'omicidio di sua moglie che però non ha commesso. Tenetevi forte perché lo shock più importante arriva a metà film.